Capisco il vostro cooperato, però mi raccomando non travisate le parole, perché quelle che hanno detto non è verità, quelle persone che hanno cambiato da A. Adesso c'è questa ragione di 1.500 euro. No, ma assolutamente. Questo qui è il nonno. Guardate, guardate, io sono tutto ufficiale a quale finale. Tutte storie. Eh, se dico questo, non lo so chi l'avrà detto, non lo so, non lo voglio manco sapere, perché io nego tutto, 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 tutto. Passo.